Il benessere psicofisico, fattore di competitività per le imprese. Il tema è al centro del dibattito che si è tenuto all'Unione Industriale di Napoli. Una molteplicità di studi comprova infatti che l'attività fisica migliora il processo di sviluppo intellettuale e psicomotorio, con vantaggi per la produttività in azienda quantificabili in circa il 15%, come dimostrano indagini compiute non solo sul management ma anche su dipendenti e collaboratori. Si registrano meno assenze per malattia, più alti livelli di concentrazione, autocontrollo e meno stress. La pratica comune dell'esercizio fisico, in palestre attrezzate con macchinari all'avanguardia e con personale specializzato rafforza inoltre lo spirito di gruppo, favorendo un miglior clima aziendale. Per approfondire il tema e produrre testimonianze di best practice d'impresa, sono intervenuti all'incontro esponenti di vertici delle aziende associate Neafit con l'amministratore Salvio Salzano e di Burelli con l'amministratore Guido Burelli. Abbiamo notato attraverso degli studi come il benessere e la produttività dei manager, degli impiegati, degli imprenditori migliora con una leggera attività fisica e con un'alimentazione più sana. Ci sono veramente una miriade di studi a supporto ed è quello che oggi noi faremo. Facciamo vedere alcuni studi a supporto di quello che noi affermiamo e di quello che Neafit riesce a dare. Sull'esperienza che è stata portata in azienda mi sento di consigliare vivamente a chi fa un'attività molto usurante, molto frenetica e soprattutto fatta in strada. Quella ora fatta anche un paio di volte a settimana veramente può essere il giusto compromesso per trovare un po' di benessere psicofisico ma soprattutto anche sentirsi in qualche modo come dire parte comunque di un progetto di benessere. Intervenuto anche Marco Lucrezzi, direttore marketing Forte Village. Cerchiamo di spostare il concetto di dieta, di dimacrimento, trasformandolo in un concetto positivo. Il tema è quello dello star bene, si vive sempre più a lungo e la cosa migliore è quella di farla al meglio. Quindi cerchiamo di perseguire quello che è l'obiettivo di uno stile di vita sano che passa attraverso una serie di step che all'interno delle nostre strutture è possibile praticare ed imparare. Grazie.